Chocodrilli buongiorno eccoci è uno eccoci qua è super concentrato perché oggi è un grande giorno stiamo aspettando l'uscita del video sta pieno intanto potete chattare live ora con noi quindi vero o no rispondiamo alle chat chatti adesso mezz'oretta stiamo con voi scriveteci in chat sul video vi lascio il link fate swipe e chattate con noi live mettendo gli occhiali perché vi risponderà live la chat sta impazzendo c c la c i la i eccola la i la a a sinistra bravo la la o no dai la la o la o la o la o sei sicuro vai invio ciao invio pigia invio invio eh no 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 invio no oh invio oh oh no no invio devi pigia questo invio vai primo messaggio di nonno faustino inviato vi aspettiamo in chat in chat sei contento sì 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 mettendo gli occhiali perché vi risponderà live la chat sta impazzendo scrivete c c la c i la i eccola la i la a a sinistra bravo la la o no dai la la o la o la o la o vai invio ciao invio pigia invio invio eh no 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 invio no oh invio oh oh no 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 osobino inviato vi aspettiamo insdf ins supuesto l'assomma c è partito da allenato no 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 expanding appena è uscito il video fate swipe up perché sta sta pieno sta pieno tutti a fare swipe up swipe 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 sta pieno sta pieno abbiamo appena fatto la visita tutto bene in gran forma sta pieno è uscito fate swipe come lo fa vai andate a vedere il video ragazzi grazie mille intanto per tutti i commenti grazie mille siete fantastici spammatelo dappertutto ragazzi che devono fa spammatelo spammatelo che marmellata vai come la marmellata via sì sì così che cos'è la neuro-riabilitazione no eh dormimo sì stai dormi va sul letto no dai andiamo sul lettino andiamo sul letto come c'è con sta fega eh dormi ma io non dormo riposo gli occhi ah riposi gli occhi e va a fanculo pure sì allora se la metti così va anche a fanculo va bene però tu mi raccomando riposa gli occhi andiamo a vero perché sta pieno pure pure sta pieno andiamo a vero perché sta pieno ma anche i motori costosi da riparare devo sapere se questa ti piace? guardate quant'è carica sta pieno mamma mia vai 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 sta pieno grande grande che coreografia ah ecco chi è tornata ma ciao guarda quant'è ma anche punto dai la perdoniamo eccola la mitica sona sona più forte più forte questa è un'altra scroccata insalata zucchine ma to schifate bene la zucchina la zucchina la zucchina la zucchina questa perché è piccola che si fa a sottopalla come sarà anche il mister è veramente questo che è la porta da casa fammi senti il cincilla però per senti il cincilla no no benedizione live benedizione dai sbobis imputentes deus no no guarda come scalcia questo sottopalla guarda come scalcia a casa di qui si vamos a mangier portala a casa distributed fana quando ti세� portali si no mi tocca portarli a mano guarda che segnale oh dopo un fattico oh si che porra che hai fatto vi voglio amoscarci un'altra volta questa è un sottopato ma io l'ho sentito che che ti ha fatto? quello è un cane? ma tu che è un cane piede della mignotta ma lui c'è scherza con me con me nell'altro io l'ho trovato e chi ce l'ha messo? tu? io? io no ma che? il pane intorno al verorifolo chi ce l'ha messo? chi ce l'ha messo? io no e chi ce l'ha messo? chi ce l'ha messo? c'è Gidele chi ce l'ha messo? cazzo perché cazzo se ci mette il pane ci mette il prosciutto che ha fatto che è? che è? ha tagliato una pistetta ma sta zitto non sa tagliare meglio ma io? nel tagliare ci metto un bel po' ma stai fino e allora l'hai fatto bene tu eeeh la fame del 15-18 era vero? eh si basta e rilascio la mia che tanto ha sempre ragione no era giunto uno il pane sul frigorifero ce l'hai messo tu ma come mai il pane sul frigorifero? fammi capire ma che cappello cotone che cappello cotone che cappello cotone e il cappello cotone e il cappello cotone cotone quanto è bella quel cappello cotone ti ci vorrebbe un bel eeeh 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 ma te cattiva eeeh cattivissimo me eeeh piselli che domani fai le scoreggi eeeh se li mangi domani scoreggi eeeh eeeh Se mangi i piselli domani scorreggia. E beh, voglio. Che hai fatto? Faccio in putta, smettelo. Ma che hai fatto? Che hai fatto? Mi riponi. Che hai fatto? Oh no? Ho fatto un vomito. Ma... 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 Tutte le cose che sto a mangiare un piccogliore. Ma beh, però... Ma che gli arriva la gamba? Eh. Ma metteci di te. La prima cena va a fare il picchino. Arciughe o no? Nonno. Arciughe? Che è in putta. Che è in buone. De che sono? No. Oh no. Nonno. De che sono? Ma dimmi di che sono? Ma va a fangu, da pica. No. Piselli di pica. Appena asciugati i capelli, ma... Dopo una doccia, chiaramente. Ma per vedere se sono ben asciutti, il test è il pennello. Vabbè. Oh no? Posso fatte un pennello? Sì, fammi la sera. Posso fatte un pennellino? Lascia fai che c'ho da fare, là. Come ti fa un pennello? Annaggia il palo. No. No. Oh, tutti per me questi? Sì. Posso mangiare una manciata? Posso darti una sediata? Cioè, così proprio? Eh, beh, fin adesso sta darti le ballate, vedi? Oh oh, Piselli. Tu conosci Gas Gas? Eh? Eh? Gas Gas. Io non conosco niente. Conosci o no Gas Gas? Non lo conosco. Guarda che fa un pennello. Annaggia la Madonna. No, 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 eh. Anche perché di qui c'è il bar. Ci stanno tutti che ti controllano. C'è padre Spio. Padre Spio, eccolo, guarda. Guarda, guarda. Padre Spio riega il preghiere. Guarda, guarda come fa. Guarda, guarda come si intrufola. Guardalo, guardalo. Guardalo. Eh, è lui, guarda. Eh, eh. Eh. Padre Spio non si nasconde. Ti lo do sopportare? Che sei sempre a dirmi? E ora non la che stanno fuori a te lì. Eh, non la che stai scrive. Che scrive la cosa del congelato. Ma a te il pennello ti piace? È tanto. Eh? Ti piace il pennello? Sì. Che bello. Ti piace o no il pennello? Sì, sì, sì. Bello il pennello? Sì. Sono morbidi come? Sono morbidi come? Come? Oh, come sono morbidi? Come il pello della figa. No, nero, lungo e riccio, eh. È morbido. È morbido. Perle del nonno. Ma guarda, mi si è ampliato il pennello. Guarda che lavoro. Questo è un cinghiale. Madonna che capelli che c'è. Comunque, vi volevo ringraziare anche questa sera. Sì, 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 sì. È venerdì. Non mi sono dimenticato. Sì, sì, è venerdì. Solo che sti giorni è stato un tourbillion, ragazzi. Anzi, il mese di maggio in generale è stato veramente forte. Forte, forte. Mi ha portato via tanto tempo, però con ottimi risultati, devo dire. Sono contento che il video vi sia piaciuto. Anche perché i ragazzi hanno lavorato benissimo. Li taggo anche stasera. Fuori Focus, Giovanni. Sono stati veramente, veramente forti. Continuate. Continuate a vederlo. Anche perché io tipo non mi stufo mai. Quindi forse anche per voi è così. E niente, ecco, ve lo disse due cose. Vi mando un abbraccio, coccodrilli. Non mi dimenticavo, domani porterò fuori i nonni. Sì, sì. Un bel sabato insieme a loro. Perché se lo meritano. Io ci metto tutto me stesso per farli sentir bene. A volte li faccio anche incazzare. Però è il mio modo di essere, ragazzi. Io sono molto scherzoso. Rompicazzo, veramente. Però di fondo c'è quest'amore sviscerato. E se posso fare qualcosa per loro, ma anche per le persone che comunque mi dimostrano qualcosa. Io sono sempre in prima linea. Quindi bene così. La vita mi ha dato tanto. Ma perché anche io cerco di fare tanto. Dopo ci riesco, non ci riesco, non lo so. Però fino a qua ci siamo arrivati. Domani vedremo, che ci frega, no? Quindi l'importante è sempre fare una bella risata e andare avanti.